Colonello, benvenuto a Foggia, intanto di recente, come si trova in questa città? La conosceva già e che impressione ha avuto? Io sono romano, provengo da Roma e non conoscevo la provincia e le mie impressioni è che una provincia ha grandissime potenzialità, visto che ci sono veramente un'attività con le università in grandissima crescita, c'è un luogo peroriare, però effettivamente è una provincia molto impegnativa che secondo me per molti anni lo Stato l'ha un po' dimenticato e quindi dobbiamo, l'obiettivo che ci saranno in tutte le forze di Foggia, insieme a Cazzo del Prefetto, la cultura della pubblica è di riportare il livello di legalità in questa città, soprattutto a un livello della città stessa america. Lei ha un curriculum strepitoso di tutto rispetto, non ha forse avuto ancora il tempo di vedere le grosse problematiche che sono sul tavolo di questa capitanata, di questa provincia, ma insomma un'idea di dove andare a mirare, diciamo così, se l'è fatta? La Guardia di Finanza come noi è un corpo di polizia economica finanziaria, quindi nell'ambito di questa lotta, di questo contrasto alla comunità organizzata, interposta insieme ai colleghi della Polizia dei Carabinieri, sicuramente il ruolo che deve avere la partiglianza è quello di aggredire i patrimoni illeciti di queste organizzazioni pubbliche. Ovviamente è un altro settore dove noi presideremo, è quello della spesa pubblica, quindi il lato uscite dello Stato, quindi lotta alla protezione, assolutamente. Noi siamo uno dei territori che sono più soggetti a infiltrazioni malavitose per ciò che riguarda il traffico di stupefacenti, anche questo è un territorio che la impegnerà moltissimo. È un territorio che ci impegnerà moltissimo, ma davvero non appena arrivato è stato un territorio che ha fatto un'operazione insieme al repartello malale della Guardia Raffinzzi. Buon lavoro allora, colonna. Grazie, anche a voi. Grazie.